Un'eremita, una giovane del Lordo Virginum, una suora laica, Francescani, Salesiani, Cotto e Lenghini, sono alcuni dei volti del variegato mondo degli ordini religiosi che hanno portato la loro testimonianza durante il convegno diocesano dedicato alla vita consacrata. Grimito di tonaca, esai e veli, ma non solo l'auditorium del Centro Congressi del Santo Volto. Centinaia le persone che si sono interrogate sul presente ed il futuro della vita consacrata nella Chiesa e nella società. Non è il momento di stare fermi aspettando chissà cosa, è il momento di prendere decisioni adeguate per il momento presente che, come diceva già Giovanni Paolo II, è un momento delicato e duro. È il momento in cui la vita consacrata è chiamata a lavorare sull'essenziale, sui fondamenti, su quello che non passa, quindi tornare al Vangelo. Non si può ammettere un consacrato che abbia volto di funerale o un consacrato che viva in permanente quaresima senza una prospettiva di Pasqua. La gioia è, penso, una profezia in questo mondo che tante volte vive triste e una tristezza profonda. Anche magari dopo ci sono tanti sorrisi di plastica. La presenza della vita consacrata è una realtà feconda di tanti aspetti positivi per la nostra Diocesi. Quello che è importante è far comprendere un po' al nostro popolo che questa presenza non va vista solo sul piano del servizio, che pure è fondamentale perché poi è quello a cui la gente tende, ma anche su quello proprio del valore che porta con sé, il valore del primato di Dio, il valore di una consacrazione totale, di una vita povera, casta, obbediente, che si mette a disposizione piena del Signore e quindi a disposizione anche degli altri.